La salata che ci dura in un'altra scala. La salata che ci dura in un'altra scala. In un'altra scala. Quattro? Se l'ho terminato, guardiamo. Mi ricordo che ci uno mette a peccicchiare in un'altra scala. Però tra i 20 e i 30. Ma non ce l'hanno. Ma ci ho 20 e i 60. Ma non ce l'hanno. Ma durano, durano. Questi vengono a piantini, queste? Procure vengono 12 sintesi. Se sono quelli di mercoledì non può essere quello che ti chiede. Perché sono capito quante volte il proprietario. Ascoltami però. Scusate signor. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.